Sua eccellenza, Monsignor Ambrogio Sperafico è nato a Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco, nell'Arcidiocesi di Milano, il 26 marzo 1950, da Luigi e da Maria Molteni. Ha ricevuto la formazione al sacerdozio nei seminari della Congregazione dei Chiarici Regolari di San Paolo, i Barnabiti, dove ha percorso il curriculum studiorum dalla scuola media fino al liceo classico. È stato ordinato sacerdote il 12 aprile 1975, si è incardinato successivamente nella Diocesi di Roma. Ha ottenuto il baccalaureato in filosofia e teologia presso la Pontificia Università Urbaniana, proseguendo gli studi per la specializzazione in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, dove nel 1978 ha conseguito la licenza e nel 1984 il dottorato. Ha ricoperto i seguenti incarichi, docente di Antico Testamento presso gli SSR della Pontificia Università Gregoriana dal 1978 al 1986, docente di lingua ebraica al Pontificio Istituto Biblico di Roma dal 1978 al 1991, docente di lingua ebraica presso la Facoltà Valdese di Teologia negli anni 84-85, dal 1992 al 2008, docente di Antico Testamento alla Facoltà Teologica della Pontificia Università Urbaniana, rettore magnifico della medesima Università per tre mandati, dal 1997 al 2000, dal 2001 al 2003 e dal 2005 al 2008, presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Pontifici Romane dal 2000 al 2003 e consultore della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli dal 1998 al 2008. È autore di numerose pubblicazioni ed articoli di carattere biblico e spirituale su diverse riviste e dizionari specializzati. Fra le lingue moderne conosce e parla il tedesco, l'inglese e il francese, legge e comprende lo spagnolo e il portoghese. Ha svolto la sua attività pastorale nella comunità di Sant'Egidio a Roma e in Germania e nella parrocchia di Santa Maria in Trastevere e di San Filippo Neri alla Garbatella in Roma. Il 10 aprile 1998 è stato nominato cappellano di sua santità. È stato eletto vescovo coadiutore di Frosinone, Veroli e Ferentino il 3 luglio del 2008 e consacrato vescovo nella Arci Basilica Lateranense il 26 luglio 2008 dal cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato di sua santità. Il 28 luglio 2008 ha iniziato il suo ministero diocesano. Il 18 ottobre 2008 è divenuto vescovo della diocesi. Dal maggio 2010 al giugno del 2015 è stato presidente della Commissione Episcopale della Conferenza Episcopale Italiana per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione fra le Chiese. Nominato dal Santo Padre membro della Congregazione delle Cause dei Santi dal 4 maggio 2011. Il 18 maggio 2016 è stato eletto presidente della Commissione Episcopale per l'Ecomenismo ed il Dialogo Interreligioso, della quale era già presidente ad interim dal gennaio 2016. L'8 luglio 2020 è stato nominato dal Santo Padre membro del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Dal 14 giugno 2021 è presidente della Commissione regionale per l'Ecomenismo ed il Dialogo Interreligioso per il Quinquennio 2021-2025. Il 10 novembre 2022 il Santo Padre lo ha nominato vescovo della diocesi di Anania e Alatri unendo le due sedi in persone episcopi. E la benedizione di Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con rimanga sempre.